Io sono qui, ti servirò, ti basterò, non resterò una riserva a questo no. Buonasera, tutto a posto, so che hai preparato qualcosa di particolare, ho avuto l'occasione di vederti all'opera, sei veramente number one. Grazie Renato, sta dicendo che tra i tanti artisti che fanno parte di questa agenzia Partenope, quest'anno attraverso la televisione Partenope TV potete contattare anche me con il mio spettacolo di cabaret, trasformismo, imitazioni e poi ci sono pure delle belle canzoni. No, ma io ti ho visto all'opera perché ti ho visto, ultimamente hai fatto il cugino di Renato Zero, ma facci vedere un po', dai, subito, subito. Te lo vado a prendere? No, te lo vado a prendere, allora io nel frattempo chiacchiero, va bene. Lui si chiama Valentino Zero, io dovevo appicchiare. Allora carissimi amici, questo è uno spettacolo veramente number one, voi per questo spettacolo potete contattare al 329 41 30 557, la nostra agenzia Partenope Music, adesso vado a chiamare Valentino, sempre il cuginetto di Renato Zero, che è una persona veramente squisitissima. E bravo, cugino, cugino. Io gli scendo il microfono, Valentino ci sei? Buonasera. Ciao Valentino. Ciao Sorcino, come stai? Tutto bene, sto bene. Tutto bene? Io so che tu sei grande, con Renato Zero hai molto a che fare, è vero? No, io sono il cugino di Renato, anche se lui non è che si è comportato tanto bene con me, ho saputo sta grande realtà che c'è da voi a Napoli, questi cantanti napoletani che vanno per la maggiore e me ce voglio buttare pure io alle vostre feste perché so che fate delle feste bellissime. Noi cerchiamo degli ottimi cabaretisti e tu lo sei, è proprio cercami, la vogliamo passare o cercami? La vogliamo sentire un po'. Vai Valentino, allora te la voglio dedicare. Grazie, grazie Valentino. Non è che ti sei innamorato di me, Valentino. Ma tutto è possibile. La vita è strana. Valentino, questo è il cuginetto di Renato Zero. Cercami, vai, vai, all'opera, voglio vedere come sei. Fatecelo a sentire. Vai, vai, vai. Cercami, come quando è dove vuoi, cercami, è più facile che mai, cercami, non soltanto nel bisogno, tu cercami. Con la volontà e l'impegno, reinventami. Confermiamo, bella, che sei. Sei veramente bravo, sei veramente bravo Valentino. Però torniamo un attimino nei panni di Savio Cavalli. Ok, torniamo nei panni di Savio Cavalli. Allora, questo Valentino Zero sarebbe il cugino di Renato Zero cresciuto a Napoli. Ma poi ci sta anche Edoardo. Chi è Edoardo? Cavalli si dice, Edoardo sarebbe il cuginetto della nostra Maria De Filippo. Lo vado a prendere? Lo vado a prendere. Vai anche da Edoardo. Edoardo! Edoardo, come stai? Che bello, che bello, Edoardo. Un biondino tutto. Io guarda, devo dire la verità, ti ho sempre visto attraverso lo schermo televisivo e devo dire che sei fantastico. Ti ringrazio, Edoardo. Sei veramente bellissimo, bellissimo, bellissimo. Che bello, come sei grande. Edoardo, allora, questo è un altro numerino che fa parte dello spettacolo di Savio Cavalli. Anche Edoardo, io qui presente, sarò a tutte le feste con Savio Cavalli e ci sarà anche il mio cabaret. Quindi ci sono tanti, tanti personaggi e mi raccomando ragazzi, guarda, io ti ho sempre desiderato nei miei sogni e ti ho sempre nominato come Renatigno. Che bello. Non gioco a calcio però, è Renatigno, no? Mi hai sempre stimolato quando ti vedo e soprattutto quando dici number one. E allora, signori telespettatori, voi che ci seguite a casa, un momento veramente bello, importante per le vostre feste. Di piazza, compleanno, madimone, trezion, festi di laura, 18 anni. C'è il nostro Savio Cavalli Cabaret, un cabaret veramente number one. Potete contattarci al 329 41 30 557, la nostra bella agenzia, agenzia Pater Music. Savio Cavalli, Valentino, Edoardo. Edoardo, Riccardo Cocciante. Riccardo Cocciante. Ci sta pure Riccardo Cocciante che porteremo alle vostre feste. Lo faremo vedere alle feste, va bene. No, velo lo faremo vedere alle feste e poi tutto da scoprire, Renatigno. Grazie Valentino. Bello, bello, bello. Ok, bello. Sei bello. Se stiamo insieme ci sarà un perché e vorrei riscoprirlo stasera. Se stiamo insieme qualche cosa c'è che ci unisce ancora stasera. Mi manchi sai, mi manchi sai.